Nel pomeriggio di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in località Giaroni ad Arsie, in provincia di Belluno, per un'auto finita rovesciata in un canale di scolo dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito insieme alla moglie. I pompieri accorsi da Feltre hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto uno dei due coniugi rimasto incastrato, mentre l'altro, seppur ferito, è riuscito a venire fuori in maniera autonoma. I due feriti sono stati poi assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti al pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguiti i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.